Allora eccoci qui in un nuovo video, oggi parliamo della matrice cinematica relativa a una trave Gerber quindi come potremmo dire che una trave in questione come questa, che è quella dell'esercizio del video scorso, si può dire isostatica allora esistono principalmente due modi di procedere, il primo modo è quello più semplice, è quello di dividere la struttura in due o più tronchi a seconda di quante cerniere interne vi sono, in questo caso vi sono due cerniere interne che una è questa qui, quindi questa qui e un'altra e quest'altra ovviamente queste due cerniere dividono la trave in un primo, in un secondo e in un terzo tronco in questo caso ogni tronco ha 3 gradi di libertà, quindi dovremmo fare 3 per T uguale 3 per 3 uguale 9 quindi in totale la trave, questo corpo rigido ha 9 gradi di libertà adesso dovremmo vedere quanti sono i vincoli applicati a questa trave, sono per quanto riguarda i vincoli esterni abbiamo la cerniera e 3 carrelli, sappiamo che la cerniera è un vincolo doppio e quindi dà 2 gradi di vincolo i carrelli sono un vincolo semplice e quindi danno 1 grado di vincolo, ne sono 3 quindi 2 più 3 è 5 però dobbiamo aggiungere queste due cerniere interne che diciamo danno rispettivamente 2 gradi di vincolo ciascuna e quindi abbiamo 2 per 2 e quindi il computo finale è proprio 9 se andiamo a fare quindi 3T meno S, diciamo che questa è S abbiamo proprio praticamente che il risultato finale è uguale a 0 e questo ci garantisce che la struttura è isostatica allora questo è un modo molto semplice di procedere diciamo che va bene fino a quando si tratta appunto di studenti relativi a istituti tecnici tipo come il vecchio ordinamento del geometra dove diciamo un computo più visivo, diciamo più immediato per quanto riguarda una trave può essere questo qui ma se stiamo parlando invece di studenti che frequentano un'università questo metodo risulta molto banale è poco diciamo pratico in quanto noi abbiamo visto che fino ad ora nella meccanica razionale andiamo a diciamo ad esprimere quelli che sono gli spostamenti che una trave, che un punto della trave subisce perché noi sappiamo che se abbiamo un corpo rigido adesso disegno gli assi corpo rigido di una forma qualsiasi e abbiamo dei punti, disegniamo P e un punto A ovviamente questi punti avranno dei, possono avere delle variazioni diciamo rispetto all'asse X quindi una cosa del genere quindi questi vengono detti spostamenti del punto P però dei PX quindi rispetto all'asse X questo è il punto A ovviamente qua potremmo avere altri spostamenti e questi punti stessi P ed A possono avere degli spostamenti relativi all'asse Y quindi questi saranno D, D, P, Y più che altro D, P, Y è qui D, P, Y, D, A, Y, eccoli qua noi quindi abbiamo visto e ovviamente questi spostamenti generano ovviamente delle rotazioni quindi i famosi alfa che noi facciamo, mettiamo quando facciamo il PLV ovviamente questi alfa non sono angoli diciamo alfa grandi molto molto grandi anzi sono alfa molto molto piccoli tanto è vero che questi non sono proprio D-alfa ma dovrebbero scriversi come D-alfa quindi sono degli angoli infinitesimi praticamente quindi noi adesso esprimeremo l'isostaticità di una trave a partire diciamo dalla legge degli spostamenti che abbiamo imparato ad applicare con il PLV e come facciamo? allora innanzitutto quindi come faremo? allora andiamo a vedere praticamente cosa abbiamo in questa nostra trave abbiamo questa cerniera esterna in A e un carrello in B, un carrello in C e uno in D allora cosa sappiamo per quando riguarda la cerniera? la cerniera sappiamo che è un vingolo doppio e quindi da due gradi di vincolo e praticamente non permette al punto A di spostarsi lungo l'asse X quindi lo spostamento lungo l'asse X di X con A è pari a 0 e non permette appunto di spostarsi lungo diciamo gli assi aspetta allora quindi innanzitutto vediamo che abbiamo una cerniera esterna in A e tre carrelli, uno in B, uno in C e uno in D allora noi sappiamo che la cerniera è un vingolo doppio e quindi non permette lo spostamento del punto A lungo l'asse X quindi di X con A è uguale a 0 e non permette lo spostamento del punto A lungo l'asse Y quindi di Y con A è uguale a 0 ecco qua quindi abbiamo già scritto per la cerniera per quanto riguarda gli spostamenti cosa fa il punto? in questo caso il punto è vincolato a rimanere ovviamente dove si trova quindi un vincolo bilaterale non può andare né lungo l'asse X spostarsi lungo l'asse X né spostarsi lungo l'asse delle Y andiamo a vedere adesso il carrello in B ah, in questo caso noi abbiamo bisogno per quanto riguarda la nostra trave di tre centri dove far ruotare fra virgolette i nostri punti allora io scelgo il centro A il centro B proprio perché vedete il carrello B è proprio messo al centro sembra essere il fulcro di questa trave tra le due cerniere interne e il carrello in D questo perché allora io adesso questa cerniera qui che io chiamerò C con 1 e questa qui la chiamerò C con 2 allora nella cerniera interna C con 1 abbiamo vediamo che uno spostamento Dx con 1 meno Dx con 2 che significa Dx con 1 meno Dx con 2 il Dx con 1 è lo spostamento relativo al primo tronco della cerniera C con 1 Dx con 2 invece è lo spostamento relativo al secondo tronco di questa parte della trave ora quindi Dx con 1 meno Dx con 2 deve essere uguale a 0 perché la nostra trave sia osiostatica e quindi in equilibrio ma come possiamo quindi esprimere questo Dx con 1 e Dx con 2 allora quindi che significa io sposte esprimeremo esprimerò lo spostamento Dx con 1 e Dx con 2 relativo alla rotazione che questo tratto qui diciamo della mia cerniera ha rispetto all'asse ha rispetto al cerniera A e la rotazione di questa cerniera qui che ha rispetto al punto B e quindi scriveremo quindi Dx con 1 noi sappiamo innanzitutto che Dp per la legge dei modi rigidi è uguale ad esempio Dq più Dfi prodotto vettoriale P meno P ok? allora a questo punto io dovrò esprimere questa Dx con 1 e Dx con 2 in questa maniera ovviamente se facciamo il prodotto vettoriale vabbè questo poi diciamo dovrebbe essere scontato che uno sappia risolvere il prodotto vettoriale avremo che un Dx con 1 si può esprimere come Dx con A quindi lo spostamento rispetto a meno Dfi con 1 in quanto poi la trave qui ruoterà con un F con 1 qua la trave supporremo che ruoterà con un F con 2 e qui con un F con 3 ok? meno Dfi con 1 per x scriverò C1 meno x A Dx con 2 rispetto a B andiamo sarà Dx con B meno Dfi con 2 per x qui non è x scusate ma y C con 1 y A y C con 1 meno y B ok? se accorpiamo assieme queste due cose avremmo Dx con 1 meno Dx con 2 e quindi Dx A meno Dfi con 1 per y C con 1 meno y A meno Dx B più Dfi con 2 per y C con 1 meno y B Allora questo y C con 1 meno y A y C con 1 meno y B deriva da risolvere questo il prodotto vettoriale e magari faremo un video dedicato però comunque andiamo adesso date per scontato che appunto è così lo spostamento rispetto a x prevede una variazione diciamo anche perché è normale se andiamo a vedere il grafico che abbiamo fatto sopra lo spostamento rispetto a x prevede diciamo un braccio una rotazione che sia diciamo relativa all'asse delle y quindi un braccio rispetto all'asse delle y vediamola così diciamo anche se in scritta in maniera molto grossolanamente allora poi abbiamo in 3 abbiamo il carrello in B che essendo il nostro fulcro il nostro centro di rotazione il carrello non permette solo gli spostamenti lungo l'asse y e quindi qui scriveremo dyb è uguale a 0 poi avevamo la cerniera interna c con 2 quindi 4 e sarebbe quindi dx con 2 meno dx con 3 dove dx con 2 è questo spostamento rispetto a x di questa parte di tronco dx con 3 invece è questo come abbiamo fatto prima esprimeremo adesso la rotazione della cerniera e qui mettiamo fi con 2 perché lo spostamento ricordate di un punto è uguale sia a destra che a sinistra come anche la rotazione quindi abbiamo lo spostamento di c con 2 rispetto a B e lo spostamento di c con 2 rispetto a D e lo scriviamo e quindi questo è lo spostamento di x con 2 meno di x con 3 ora il carrello in C lui prevede un ante y c uguale a 0 per la stessa cosa detta per il carrello B ma a questo punto visto che abbiamo il centro di rotazione che è D lo esprimiamo come lo spostamento di c rispetto al punto D e quindi d yc si scriverà d y di attenzione più d fi con 3 per x c con no x con c meno x con D semplicemente poi 6 abbiamo lo spostamento di d y di uguale a 0 e quindi abbiamo scritto praticamente le nostre equazioni adesso le vado a riprendere ve le faccio vedere molto in maniera una pressa all'altra diciamo quindi eccole qua le nostre equazioni relative allo spostamento ricavate dai ragionamenti che abbiamo fatto prima e a questo punto non ci resta altro che scrivere l'equazione del vincolo generale allora prima ci eravamo scordati di scrivere le spostamenti della cerniera interna rispetto a y per tutte e due le parti perché sia rispetto a x che rispetto a y ve l'ho segnato qui in rosso praticamente lo stesso ragionamento che si fa con le x si sviluppa sempre quel prodotto vettoriale e si giunge alla fine a queste 2 di y1 meno di y2 di y2 meno di y3 abbiamo quindi scritto la nostra ecco qui la nostra equazione dei vincoli precedentemente detta adesso andiamo a creostruire la matrice cinematica che praticamente prevede i coefficienti di questa equazione differenziale una volta ciascuno con un diciamo a seconda del vincolo che abbiamo ecco dell'equazione dei vincoli che abbiamo qui scritto quindi di x con a quando di x con a uguale a 0 a sarà 1 e così via b sarà di y a sarà 1 quindi a uguale a 0 quindi adesso ve lo spiegherò passo passo allora andiamo a costruirla allora di x con a uguale a 0 sarebbe 1 è tutto 0 qui quindi di x con a poi di y con a uguale a 0 sarebbe 0 qui poi 1 e tutti 0 perché non ci sono altri spostamenti relativi a b o a d poi avevamo la cerniera interna quindi di x con 1 meno di x con 2 e quindi sarebbe 1 0 in y con a poi sarebbe meno y c con meno di f con 1 meno y c con 1 meno y c con 1 meno y c con 1 però c con 1 e a hanno la stessa ordinata quindi quella ordinata diventa 0 y c con 1 meno y con a poi meno 1 perché avevamo meno di x con b poi 0 perché non c'è la y con b e poi y c con 1 meno y b stesso discorso stessa ordinata quindi 0 poi andiamo c'era portiamo y la variazione di y2 e di y3 quindi di y1 e di y2 quindi sarebbe 0 in x 1 in y a poi x c con 1 meno x con a per la fi poi 0 per x con b 1 per y b e meno y c con 1 meno y b sarebbe defi con 2 e poi tutto il resto 0 perché in d non ci spostiamo ora possiamo mettere il carrello in b quindi 0 tutto in a quindi 0 anche a x b y b 1 0 0 tutti gli altri poi possiamo mettere la cerniera interna x2 meno x3 y2 meno y3 partiamo con x2 meno x3 e sarebbe 0 tutta in a perché ci spostiamo sia rispetto a b che a quindi 1 a x b 0 a y b meno y c2 meno y b sarebbe 0 poi rispetto a d è 1 rispetto a yd è 0 y3 yc2 meno yd è 0 poi andiamo con y2 meno y3 tutto 0 sempre a dopodiché abbiamo 0 anche a b 1 a yb e poi cos'è abbiamo xc2 meno xb poi 0 meno 1 meno xc2 meno xd meno xd poi abbiamo il carrello in c quindi ci spostiamo sempre rispetto a d quindi 0 in a e 0 in b 0 a xd 1 xc meno xd e poi abbiamo il carrello in d tutto 0 in a tutto 0 in b 0 a xd 1 a yd e 0 l'altro adesso vi scrivo velocemente cosa abbiamo scritto ecco vedete quelle sono le equazioni che abbiamo scritto a fianco adesso dobbiamo calcolare il diciamo il determinante di questa matrice io lo calcolo attraverso l'ausilio dei minori e quindi cancellando praticamente le righe o le colonne dove si trovano diciamo l'unico elemento diverso da 0 ognuno può fare come gli pare quindi ci vediamo direttamente alla fine della soluzione di questa matrice che io vi riporterò poi il determinante di questa matrice e vi dirò perché è isostatica allora alla fine il determinante risulta essere questo allora se ci facciamo i conti e facciamo xc meno xd ricordando che le distanze sono sempre l l l qui otteniamo alla fine 7l per meno 2l per meno 2l il che è 28l al cubo quindi se il determinante di questa matrice che è la matrice cinematica in sostanza è questo che vogliamo sapere non tanto insegnarvi come si risolve i determinanti di una matrice perché vi ripeto lo si può fare in tutti i modi studiati nei corsi precedenti come geometria ed algebra e così via quindi ognuno è libero di calcolare il determinante come vuole oppure ridurre a gradini questa matrice come avete visto io ho fatto un taglio e vi ho portato direttamente al calcolo del determinante proprio perché calcolare il determinante di una matrice 9x9 attraverso il minore è molto lungo quindi veniva già è un video lungo veniva ancora molto più lungo però quello che vi voglio dire in questa in questa sede è che come facciamo a dire se una matrice se una trave è isostatica possiamo dire che una trave è isostatica questo principio si applicherà sempre a qualsiasi trave ai telai a qualsiasi anche se iperstatica se solo se il determinante della matrice cinematica quindi praticamente risulta essere diverso da zero ciò significa che i vincoli dati alla nostra alla nostra trave che ormai abbiamo riportato qui sopra sono anche ben disposti e se sono ben disposti vuol dire che la struttura non subisce degli spostamenti e in effetti noi in prima battuta in prima istanza con il conticino semplice semplice avevamo vedete visto che era già isostatica eccolo qua abbiamo fatto con il conticino quello semplice noi qua invece siamo andati un po' più nel profondo e abbiamo visto quegli spostamenti come è possibile dire che una trave è isostatica un ultimo appunto al di là di tutta questa che è stata diciamo un video abbastanza lungo e forse anche complicato però vi ripeto sono esercizi che poi vengono da sé a mano a mano che uno li fa possiamo avere anche delle configurazioni tipo come questa dove ad esempio i vincoli sono mal disposti questa apparentemente si dice che è una struttura isostatica perché facendo il conto dei vincoli tronco qui uno solo quindi a tre gradi di libertà questo ne toglie due quindi meno due questo ne toglie uno quindi meno uno il conticino 3t in questo caso t meno s è praticamente zero però a questo punto come facciamo a dire che è appunto una struttura non isostatica ma bensì questa è una struttura labile che ci ha creato meno possiamo farlo in due modi uno è il metodo grafico quindi evidenziare gli spostamenti della cerniera e del carrello la cerniera può avere solo questi spostamenti quindi alto e basso quando è o attenzione però quando è un centro di rotazione perché noi sappiamo che la cerniera il punto però non si sposta rimane fisso qua A rimane fisso qua non è che il punto A si trasporta qui oppure si trasporta qui no questi sono gli spostamenti quando la cerniera è centro di rotazione il carrello in questo caso come è disposto a questi spostamenti come vedete gli spostamenti della cerniera e gli spostamenti del carrello non si intersegano quindi vuol dire che la nostra struttura è labile una struttura invece del genere la classica struttura è isostatica perché gli spostamenti della cerniera sono sempre questi ma gli spostamenti del carrello sono questi vedete come è posto adesso il carrello praticamente se io mi porto qui con gli spostamenti della cerniera li porto qui in modo tale che possiamo vederli vedete si intersega con quelli del carrello quindi praticamente non si ha modo che questa trave si sposta e questa effettivamente è isostatica quindi come vedete la matrice cinematica è molto utile per determinare anche se i vingoli sono ben disposti perché con il famoso condicino che abbiamo visto prima qui noi siamo portati a dire che la struttura sia isostatica ma quando è qui invece è labile ad esempio anche quest'altra struttura qui che ci credete o meno è ancora labile anche se al conticino semplice T-S risulta essere 0 allora sarebbe isostatica se non agiscono le forze infatti se questa è una trave appoggiata su dei carrelli tipo come uno skateboard e non ci sono forze che agiscono praticamente questa trave non si muove effettivamente rimane in equilibrio ma anche se agisce una forza con un carico di punte in questa maniera non si muove ma appena agisce una forza che è così quindi praticamente il vostro piede che spinge lo skateboard allora questa trave tutti questi carrelli si sposteranno nella direzione ovviamente dettata dalla forza il carrello può andare a destra o a sinistra e si sposteranno quindi secondo la forza si sposteranno tutte da questa parte e praticamente la nostra trave scivolerà su questo piano quindi questa struttura è una struttura a vincoli mal disposti come la prima la prima e la seconda sono due strutture che vengono mal disposte apparentemente isostatiche infatti sono entrambe labili allora una è labile in qualsiasi caso che ci sia un carico di punta o una forza con un certo angolo questa invece è isostatica se non c'è forza oppure se c'è un carico di punta ma se c'è un carico che è normale all'asse della trave questa diventa labile quindi praticamente questo possiamo dire che oltre allo studio della matrice cinematica dobbiamo fare lo studio dei carichi di come agiscono i carichi sulla nostra trave quindi come vedete ovviamente di queste tutte e tre si può fare una matrice cinematica questa qua magari ve la lascio come dimostrazione quindi dimostrare se volete per esercizio ovviamente che questa trave qui è labile anche se il conticino semplice ci dice che è isostatica perché è molto più facile da fare quindi ricordate di esprimere attraverso i spostamenti in questo caso non c'è bisogno di fare uno spostamento potete farlo anche però non c'è bisogno di fare uno spostamento tipo del carrello rispetto alla cerniera o della cerniera rispetto al carrello potete semplicemente dire quali sono le equazioni della cerniera per quanto riguarda gli spostamenti di x a di y a uguale a 0 qual è l'equazione del carrello in questo caso il carrello non ha in questo caso il carrello se riprendo la penna eccola qui il carrello agisce in questa maniera con una reazione vincolare che è questa ok? rb diciamo e in questo caso non è dyb ma sarà dxb ad essere uguale a 0 quindi praticamente dimostrate con la matrice cinematica che questa struttura qui è labile le altre ovviamente ci accontentiamo di un metodo grafico qualitativo indstatutri grafico perremezlol qui a God let la ok Mar